Continua la campagna di sensibilizzazione da parte dell'amministrazione comunale sul tema l'Aquila città cardioprotetta. Lo rende noto l'assessore alla sicurezza urbana e protezione civile Emanuele Imprudente. Attraverso la delibera di giunta comunale ho inteso promuovere lo schema di convenzione atto a ricevere donazioni da parte di associazioni e privati per la fornitura di altri defibrillatori automatici che saranno installati in luoghi strategici della città, ha spiegato Imprudente. Si tratta di importanti presidi medici di utilità pubblica, di valenza strategica per la municipalità. Solo qualche settimana fa, ricorda l'assessore, è stato inaugurato il quarto defibrillatore donato alla cittadinanza attraverso il contributo di enti, imprese, commercianti e privati cittadini. L'iniziativa è basata sui contenuti dell'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, sulle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione dell'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semi-automatici, da parte anche di personale non sanitario, purché in possesso di donne a formazione valida e sistematicamente verificata, che identifica anche i criteri di distribuzione dei defibrillatori, individuando come aree di collocazione ideale quelle con particolare afflusso di pubblico, conclude l'assessore.